Appassionati, non appassiti, Francesco vuole, i giovani. Una vita giovanile senza passione è come la pasta in bianco senza sale. Vi piace? No. In Aula Nervi ci sono gli studenti del Barbarigo di Padova, scuola della diocesi che oggi festeggia col Papa cent'anni di vita. No, ai giovani divano li ammonisce premuroso ma deciso Francesco, quelli seduti a guardare la storia che passa. E' la storia che devi guardare come passi tu. I compromessi, spiega Adaldo, portano alla mediocrità, poi insiste sull'educazione che passa per testa, cuore e mani, pensare, sentire e fare nel confronto non solo sui libri ma con la vita. Un giovane deve avere la capacità di interrogarsi, di farsi le domande che vengono quando lui guarda la realtà, non solo quando studia. Segue ricordo del primo lavoro a 13 anni, pulizia in una fabbrica. Lavoro concreto a me ha fatto bene, mi ha aperto gli occhi. Ultimo consiglio ad un maturando che dovrà scegliere presto il suo percorso universitario. Ma non per riempire le tasche di soldi. Fa bene anche a me e commenta infine appassionarmi alle vostre domande. Grazie ragazzi e ragazze di questa visita e avanti e coraggio.